Ci hanno sempre fatto credere che l'acqua fosse l'unica sostanza bevibile dall'uomo. Non ci hanno mai detto la verità. L'acqua è una sostanza dannosa per l'organismo. Lo dimostra il fatto che la svegliamo più e più volte al giorno. Noi di Fox Junior abbiamo trovato delle sostanze rivoluzionarie. L'acqua ragia per esempio è un vero toccasano in confronto alla temibile sostanza cuosa, mentre il ginger in realtà è stato creato per il lavaggio e l'igiene personale. I politici hanno insabbiato tutto perché in realtà si sono alleati con gli alieni e ci vogliono distruggere tutti. Ora voi sapete la verità, non vi arresta che divulgarlo nel mondo!